Buon pomeriggio dall'Ipodromo Arcoveggio, convegno di corse di giovedì 11 gennaio. La prima corsa è riservata a Puledri di tre anni, sono in sette al Viedo per il ritiro di Fadek Letiz. Lo schieramento uno Femme Fatale, sì, due Fringuella Jet, tre Fortune Indal, quattro Fantastic Field, cinque Fenice dei Greppi, sei Floro Capar. In seconda linea, otto Fangio Cor, favori per Fortune Indal, numero tre Andrea Farolfi, macchina che accelera. Partiti con la velocità iniziale di Fantastic Field e all'esterno di Fenice dei Greppi, due lottano per il comando. Il partito invece a mezza botta, Fortune Indal mantiene la testa Fantastic Field nei confronti di Fenice dei Greppi, che è costretto ad acquadarsi in seconda posizione, mentre più indietro in terza dovrebbe essere Femme Fatale, sì, primi 200 in 15 e 1. Percorsie esterne invece cerca la progressione Fortune Indal, che dopo 400 metri arriva ridosso dei primi, raggiunge in seconda posizione Fenice dei Greppi. Numero due, Fringuella Jet. 31,7 per i 400 iniziali, la rottura e la squalifica per Fringuella Jet, restano sei. Quando siamo al completamento della piegata e dei 600 metri iniziali, con Fortune Indal che si impegna ora all'argo di Fenice dei Greppi, gradualmente prova ad avvicinare anche Fantastic Field per attaccare e passare senza essere contrastata, ma passa in vantaggio quindi sulla penultima curva e in testa il favorito Fortune Indal, che va a completare un chilometro nell'ordine del 1,18,7. In vantaggio dunque Fortune Indal nei confronti di Fantastic Field e Fenice dei Greppi, per corsie esterne invece Floro Capar, siamo a 400 dall'arrivo, con leader sempre Fortune Indal, si impegna all'esterno Floro Capar, prova a seguirlo anche Fangio Cora, la corda Fantastic Field, un po' in difficoltà, non ha spazio Fenice dei Greppi, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, Fortune Indal superata la curva, ora può di nuovo allungarsi, per prendere lunghezze di vantaggio a Floro Capar e Fangio Cora, che finiscono bene, vince comunque come vuole, Fortune Indal, secondo posto per Floro Capar, al terzo Fangio Cora, 1,17,8, il raguaglio conclusivo, vince il favorito Andrea Farolfi in sediolo, per conto di Andrea Esposito, sfila dopo 700 metri di gara, Fortune Indal e coglie così la seconda vittoria a seguire, dopo il successo tenuto a Roma, raddoppia, secondo posto per Floro Capar, che corre in progresso, al terzo Fangio Cora. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.